La storia dei piemontesi nel mondo si arricchisce di un'ulteriore pagina, ha affermato il Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, intervenendo alla presentazione a Palazzo Lascaris della nuova versione Nuisuma Piemontese, l'inno ufficiale dei piemontesi nel mondo. La musica di Giovanni Vallero e Claudio Chiara, il testo di Domenico Torta, la voce solista di Simona Rodano, l'arrangiamento per coro-orchestra di Fabio Banchio, responsabile del settore arte e cultura dell'Associazione Piemontesi nel mondo, presieduta da Michele Colombino. Qual è il significato di questa iniziativa? Innanzitutto rispolverare la forza delle nostre radici piemontesi nel mondo, secondo utilizzare la musica che ha sempre accompagnato i momenti classici della storia piemontese e della storia italiana, infine dare ai nostri emigrati piemontesi nel mondo anche la gioia di avere un inno che parla con il cuore e dice Cosa significa per lei aver interpretato l'inno dei piemontesi nel mondo? Beh, per una piemontese che vive nel mondo, che vive a New York, è sicuramente un tributo che con orgoglio ho cantato, dedicato alla regione da cui provengo ed è anche uno stimolo reciproco per portare il nostro Piemonte nel mondo. Grazie a tutti! Grazie a tutti!